Primo consiglio comunale a Polla senza Rocco Giuliano. L'assise si è di nuovo riunita sotto la guida del vice sindaco reggente. Durante i lavori, dopo il menuto di raccoglimento e la deposizione simbolica della fascia tricolore di un mazzo di fiori sulla sedia occupata di solido da Giuliano, i presenti lo hanno ricordato dinanzi ai figli. Di Rocco Giuliano si è evidenziato l'amore per la democrazia, la signorilità, il piacere del confronto politico mai eccessivo, il suo vivere il paese e i problemi dei suoi concittadini. Il sindaco della gente è stato detto dalle grandi doti umane e la capacità di dialogo al di là delle bandiere politiche. Il consiglio comunale si è calato poi nei punti all'ordine del giorno che erano stati delineati dallo stesso sindaco scomparso che nell'aula del suo consiglio comunale in alto al centro dei banchi dove era solito sedersi avrà una sua foto con la dedica da parte di tutti i consiglieri in ricordo di un uomo e di un sindaco straordinario.